Salve a tutti amici artisti e benvenuti in questa quindicesima puntata di Minecraft Ita Allora perchè ne stiamo facendo la intro come il nostro solito? Diciamo ricche novità Skin! Skin! Allora finalmente ha acquisito Minecraft 3 Si e stavolta tutto legit quello abbiamo comprato 50 euro io e Mari di Minecraft E infatti come devo dire finalmente la skin personalizzata Fate sapere se vi piace sotto nei commenti E se non ci scorniamo anche a bombazza Bello si io ne vado soddisfatto E ne abbiamo fatto anche altre versioni natalizie, iberna Ah certo, almeno 5 seschine così da utilizzare Ok In questa puntata Finiremo, cioè speriamo di finire l'acquario Speriamo di finire l'acquario esatto Poi abbiamo un altro, dalle cose buone escono problemi Questo bel microfono è rotto Come andava una bellezza adesso sembra registrare un po' basso Un po' tanto basso Speriamo di no Allora qua dobbiamo mettere, si dobbiamo mettere l'acqua Ok 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 Il problema è che dobbiamo mettere ancora tanta acqua Perché non... Ah Perché non basta dalla bocca, giusto? Ah, fa come sono... Ah, mi dispiace proprio il vetro Va a battersi E' una bella sinza Perché devo passare pure di là E' ho capito Riporti Ah beh, lasciamo la pezza Riporti, è una spara da casa Ok Sì, 15, 20 giorni Miline ai giorni, più o meno Sì, anche se video l'abbiamo pubblicato... Aspetta, dipende da quando pubblicheremo questo video, quindi... Diciamo che per come stiamo noi l'abbiamo pubblicato da un... due giorni Certo Questo video dovrebbe uscire... No, 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 il video è la quattordicesima Ah, pensavo questo qua, anche Ah, pensavo questo qua Ah, sì, perché mi diventa quando è uscito questo qua Poi, dobbiamo trovare un modo per mettere questa microfono vicino a lui In modo che possiamo, possiamo parlare, interagire con voi Anche se non... direttamente Ecco Senza però, perché il problema è che per parlare così bello, perché così si sente bene Quando stai l'inchiotati con la testa, non il monitor E' il problema è la schiena, non è la testa, perché... Ah, se ne va Cioè, non ho una schiena... Va a farsi benedire Ah, wow, femmini prende l'imono Ah, la grande Ma tu c'ha nel mezzo? Si, nel mezzo Ma perché vuoi sta sto buco qua? Ma dove sta? Boh Ok, diamo questo Oppure vuoi fare come facevo... no, facendo con il ghiaccio Come fare una volta pescino per rinviare Perché se lo spaccavi, si, e lo rinviare l'acqua Eh, devo rinviare l'acqua Una cosa da qui incredibile Buonanotte, signor Mariano Buonanotte E' già buon giorno Eh, vuoi... Vevo come la realtà che vabbè ha letto un secondo e si è fatto il giorno Più, sì Sì, quando c'è sono noi si stanno con i volano Oh mio Dio Mamma mia Facciamo che andiamo... Ragiriamo lo stato Ragiriamo lo stato Ciao, fatta albero Ragiriamo lo stato Ragiriamo, ciao Oh, no, no, no Mi ricordo ne... Oh, mio Dio però qua dovevo pure va sistemato perché questo muro così liscio dritto non va bene lo so lo so però ora è per costruire poi si vedrà si si perché va tutto chiarito e poi ho messo lo snapshot ogni ora possiamo andare a trovare le api bene e quindi faremo anche qualcosa con le api ma fa un'edit c'era anche uno scrivere in acqua questo è un subacqueo uno schietro accuso ma l'angeli friggio muore ma io non ti giuro io non l'ho colpito è morto da solo we are back allora abbiamo un po' di lavoro noioso a rimpire la palla sai quale è la cosa bella rimpiamolo di pesce di quale disponiamo? uno vabbè dai già che ce n'è uno però ce ne vengono tanti perché questo è un bel effetto innanzitutto ma aspetta ci vuole anche uno strato di sabbia a terra ecco quello pure quello che lo mettiamo in posto che ci vuole perché ci vuole perché la sabbia sotto ci vuole dicevo si pesci pesci dove? seppie polipi seppie polipi spolipi mani manimo allora ma sta il secchio si si sta qua io non sono sicuro ma quando l'ho ricostruito mi ricordo che qua stavano dei patients c'erano anche dei delfini aspira però i delfini è un po' più difficile no è più complicato da portare ah ecco buona piante lunghe ah questo update è servito a minecraft perchè ha risolto le api più si più realistiche cioè una cosa che deve essere suggerito non avrei fatto è l'update delle api perchè la community di minecraft chiede il che update di minecraft cosa ti dà le api le api vabbè ma non è una volta che fa una cosa però c'è cacchio potevano fare no ascoltaci ecco i pesci no forse ho indefini ah ecco la stanno i pesci pesci cernie, trote trota pinaca è uno è preso poi la stanno vedi di altre categorie altri generis sardine vino sardine ok per il momento il bucket è pieno però vedi già sappiamo ah perchè c'è un limite si infatti però vedi già sappiamo dove andarle a prendere si si è positivo e sta vicino alla casa se ci pensi si perché da qua si vede e poi una cosa che ah vedi delfini infatti vedi mi ha dato la grazia del delfino come li vedi vado più veloce ah per prima per un per un po' si quindi dovremmo trovare un metodo per trovare per provare a prendere il delfino ma con il secchio no dobbiamo trovare i metodi di capitan findus sono il meglio per i capitani di domani il migliori marino no quando ne portano in sicchie un'altra un'altra c'è un pesce non morire non morire portato dei amici amico ora non è più solo eh almeno questo per ora dobbiamo andare a finire qui vedi quei ti ricordi che pesci che stanno là dentro finiranno tutti cioè verranno tutti da noi un acquario strapieno che si deve vedere quando ci passi dentro che pino di pesci yes come dicevo sotto la strada di sabbia poi quelle alghe che stavano in acqua si possono prendere si perché quelle magari un paio di quelle si possono mettere in un angolo si può creare in una si cosa simpatica cosa che volevo dire mi sono scordata allora ma tu hai detto metti la sabbia sotto ci vuole quindi noi dopo ripiazziamo cioè off camera dopo ripiazziamo tutta la sabbia sotto e tutto questo tutto questo qua va sopra dove sta la terra che fa un po' scifu si che fa scifu quindi però piano piano diventiamo degli esperti certo mi difenderli già stiamo andando meglio guarda che poi già li smadonano un turco invece stanno benino si stanno benino conoscendomi mi sto mantenendo conoscendomi mi sto mantenendo ci sto riuscendo dobbiamo dovremmo fare i carciofi io i miei pro i carciofi i carciofi io i miei progressi con le bestemmie un pesce e chance vedi come pescetto non scappare un altro pescetto pesce vieni aca preso vieni una e dove si nascondono questi volevo trovare un salmone vero si perchè ci vogliono un po' di generi diversi non so quante specie ne stanno eh ce ne sta un sacco però qua è un pe è un sacco che deve essere solo questi essendo che dovrebbe dipende dal bioma c'è no anzi anche dall'acqua di fosse più calda sponano altri pesci ah bene allora vuol dire più e poi non voglio dire la stupidaggine stupidaggine ma dovrebbe esserci un sacco di tipi di pesci di colori di pesci quindi dai ah preso mio addio mi riso qua lo possiamo perché tanto io questo qua diciamo che non so se è così ma per il momento sono i più rari che possiamo trovare ah ok noti di te di te a scappa ora vediamo di non morire c amici guarda c'è un piccolo più ce ne sono più certo ok vediamo guarda già anche se sono gli stessi pesci per almeno ci sono c'è della vita non sto facendo dire la mia no no assolutamente no guarda come sembra bello quel pesce la eh questi c'è sempre il problema come li portiamo sono cose che non si prendono col secchio no unico lato positivo che costano 287 mila pesci 287 mila pesci è il nuovo numero 287 mila tutti sotto il video hashtag 287 mila bello questo 287 mila il favore mangia anche la carne marcia guai la prima volta che la carne marcia non mi ha avvelenato direi assicurata si vuol dire si si vuol dire si è una cosa umana che può cadere e perchè come detto prima se se l'ho detto se manco cuore in quella fase se sappiamo cosa si e qua la cosa si può dire non si può dire mamma io che non puo dire una parola mamma io che non puo dire una parola mamma mia youtube ti blocca ci ha dato uno strike youtube l'abbiamo detto ultima di 2 c'è dato un avvertimento un mini avvertimento un mini avvertimento allora vogliamo avvisare solo che stiamo un attimo mettendo la sabbia e non lo stiamo registrando perchè altrimenti per non rendere il video noi uso noi stiamo andando appunto quindi ci vediamo fra poco tra poco ultimo blocco messo il video vabbè questa andrebbe trappato trappato si va sistemato sia sopra che affrontarmi però ora per visto che dobbiamo finire il video allora uno qua uno qua uno qua vedi che ci vogliamo questi crescono assai vino vino non devono crescere troppo velo lo potiamo vino eh quasi non tutto vino vino non tutto il fondale quasi dove si è due vedi che vedi che è magosità dove si e dove no alla mondo abbiamo solo dobbiamo metterlo giusto di qua un po' così molto a carrandomi in modo che sembra molto reale molto naturale sparo uno qua no questo qua è la stessa cosa quindi ne sparo uno qua uno qua bene così aspetta poi se viene lo spazio io ho lì però ti ho detto anche perchè dobbiamo ritrovarli lo spazio fai prendere tutto questo 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 blocchetti inutili che non devono starci e wow allora diciamo questa parte andrebbe continuata però anche perché dobbiamo togliere le porte e mettere di vidro certo certo a quando possiamo già dobbiamo raccoglare solo una porta e per forza perchè dobbese dobbiamo entrare dobbiamo mettere in gli altri pesci ok giusto quindi comunque quindi vabbè diciamo che per il momento per una l'acquario tra virgolette è finito è relativamente finito è relativamente finito perchè comunque dentro è fatti i pesci ci stanno come vedete stanno le altre quindi ci sono una sabbia quasi ok spero che questa quindicesima puntata vi sia piaciuta se così lasciate la commentata condividete seguite su instagram facebook tutti i social tutti i rubri pare una piccola anticipazione dobbiamo vedere se riusciamo a fare una serie dove ci colleghiamo io e te bene fate sapere cosa ne pensate sarà una cosa molto simpatica quindi alla sedicesima quindi prossima puntata al prossimo video bye ciao